Ci hanno assegnato una zona che partiva da Malgavalli a Pian delle More, circa due chilometri e mezzo di strada, dovevamo controllarla nei due versanti per una sessantina di metri. Dopo due ore e mezza di ricerca, nella fase di rientro alla macchina, nel versante di destra, il cane ha dato un segnale evidente che c'era qualche cosa di interesse. Il mio collega che era con me, Antonio, dalla strada ha visto il cane, che aveva dei segnali un po' diversi dal solito, perché loro abbaiano alle persone che sono ancora vive o che hanno ancora un calore corporeo buono. E allora in quel caso lì loro abbaiano, diciamo nelle persone che ormai sono decedute da un po' di tempo, non sono abituati a dare dei segnali, però nonostante tutto lui ha ritrovato questo corpo e ha dato dei segnali con il movimento del suo corpo, quindi con la coda, con l'interesse che annusava. Antonio che era sulla strada ha notato subito questa cosa e ha detto andiamo a vedere perché lì c'è qualcosa. Io mi trovavo un po' più in basso, il cane è venuto da me, come a cercarmi per riportarmi sul posto. Difatti subito dopo il mio collega mi ha chiamato via radio e mi ha avvisato che aveva trovato Giulia dietro questo masso dove aveva segnalato il cane.